Benvenuti al non episodio di questa serie di esperimenti con lo Z80. Finora ci siamo concentrati su componenti secondari, ma che permettono di creare velocemente automatismi elettronici simpatici. E oggi possiamo finalmente parlare dei veri chip di memoria. Sia il microprocessore Z80, sia praticamente qualsiasi altro microprocessore, hanno bisogno infatti di un dispositivo da cui prelevare le istruzioni da eseguire, i dati da elaborare e dove inserire i dati ricevuti o elaborati se questi non vengono trasmessi subito a un dispositivo di uscita. E il nostro calcolatore non può dipendere a lungo da Arduino. Vediamo prima qualche sigla veloce. RAM sta per Random Access Memory, cioè memoria d'accesso casuale, ad indicare che chi accede alla memoria, di solito il microprocessore, indica una posizione precisa di memoria, in pratica un indirizzo, e può ottenere o inviare immediatamente i dati richiesti. Il problema delle RAM è che perdono i dati contenuti quando la macchina viene tolta l'alimentazione. Quello che è stato fatto nella quarta e settima puntata, ovvero la griglia di diodi e la memoria con Arduino, è quindi una memoria ad accesso casuale, ma funziona in sola lettura, ovvero il microprocessore può solo leggere dalla memoria e non inviare dati da ricordare. Una memoria dove si può solo leggere viene chiamata ROM, ovvero Read Only Memory. Negli ultimi anni il termine ROM ha cominciato ad essere associato a supporti di memoria che mantengono i dati anche a macchina spenta e sono facilmente scrivibili, ma questo è un disastro causato dal marketing e in questo video ci riferiremo alle ROM solo con il significato di memoria di sola lettura. L'utilità di una ROM risiede nel fatto che riesce a mantenere i dati anche senza essere alimentata, e le ROM si sono evolute da versioni programmabili solo in fabbrica, ROM, in versioni via via più facili da programmare anche con attrezzature obistiche, fino alle EEPROM, ovvero memorie normalmente usate in sola lettura, ma cancellabili e riprogrammabili elettricamente, che si possono gestire anche con un Arduino Uno con poca fatica. Oltre alle funzioni di una memoria ROM, Arduino potrebbe essere programmato anche per memorizzare dati provenienti dallo Z80, quindi comportarsi come una memoria RAM completa, ma prima vediamo come gestire una vera memoria con lo Z80. In teoria sarebbe sufficiente trovare un chip EEPROM che riesce a decodificare 16 bit di indirizzi e sappia ricevere o inviare 8 bit di informazione. Questo chip si collegherebbe allo Z80 insieme ai segnali di controllo a memoria, di lettura e di scrittura, e il gioco è fatto. Purtroppo non è così facile. Alla nascita dello Z80, le memorie scrivibili, chiamate appunto RAM, potevano contenere qualche migliaio di byte, molto meno di quello che poteva indirizzare lo Z80 e costavano anche parecchio. Di contro le EEPROM sono più lente, specialmente in scrittura rispetto alle memorie RAM tradizionali e l'operazione di scrittura è garantita per un certo numero di operazioni, molto grande ma non abbastanza per poter sostituire una RAM. I primi chip di memoria avevano un certo numero di posizioni indirizzabili, ad esempio 256, 512, 1024 e così via, gestibili con 8, 9, 10 bit di indirizzi, e in ciascuna di queste posizioni potevano memorizzare un solo bit. Servivano quindi 8 chip come questo, dove il basso indirizzi e i pin di controllo erano collegati a tutti i chip, mentre il basso dati veniva diviso nei singoli bit, ciascuno connesso a un chip diverso. Fortunatamente sono poi arrivati anche singoli chip capaci di gestire 8 bit di dati e svariati bit di indirizzi, quindi con un solo chip si può fornire una idonea capacità di memoria ad un microprocessore come lo Z80. Proviamo a vedere un chip di memoria. Occorre stare attenti al titolo del chip. Spesso infatti è scritta la quantità totale di bit disponibili, ma è molto più importante capire anche la quantità di bit nel basso dati e la quantità di bit nel basso indirizzi, almeno per capire se ci basta un chip o se ce ne servono 8. Questo chip ha 28 piedini, 2 di alimentazione, 8 per i dati, 13 per gli indirizzi, 4 di controllo e 1 non utilizzato. I pin dei dati sono bidirezionali, come quelli dello Z80, ed è abbastanza intuitivo capire come funzionano i pin dati e indirizzi. Avendo 8 pin per il basso dati e 13 pin per il basso indirizzi, questo chip può contenere quindi 8 kilobyte di dati. I pin di controllo riguardano l'abilitazione, la lettura e la scrittura. I pin di abilitazione permettono al chip di funzionare a basso consumo per mantenere i dati quando non ci sono richieste e sono due con logica opposta. Per attivare il chip occorre che il pin 26 CE2 sia a livello logico alto e contemporaneamente il pin 20 CE cancelletto sia a livello logico basso. Altre combinazioni di livelli logici di questi due pin lasciano il chip fermo in attesa. Attivato il chip con CE cancelletto a livello logico basso e CE2 a livello logico alto, se il pin OE cancelletto viene messo a livello logico basso, il chip presenta sui pin da DQ0 a DQ7 il contenuto della cella di memoria indirizzata sui pin da A0 ad A12. Altrimenti, se il pin OE cancelletto è a livello logico alto e il pin WE cancelletto è a livello logico basso, il chip memorizza i livelli logici presenti nei pin da DQ0 a DQ7. Il collegamento con lo Z80 di gran parte dei pin è quindi molto facile. I pin dati della memoria si collegano ai pin del basso dati dello Z80 e i pin da A0 ad A12 della memoria si collegano ai corrispondenti pin dello Z80. I due pin Read e Write della memoria si possono collegare ai corrispondenti pin dello Z80 purché venga collegato anche il pin Memory Request dello Z80 al pin CE cancelletto della memoria. Per completare i collegamenti e far funzionare il sistema è sufficiente collegare anche il pin CE2 al 5V. In questo modo lo Z80 potrebbe funzionare tranquillamente ma ci sono due problemi. Qualsiasi accesso alla memoria dello Z80 attiva questo chip. Non si possono quindi aggiungere altre memorie e lo Z80 accede più volte alle stesse aree di memoria usando indirizzi diversi. Infatti lasciando scollegati i pin A13 A14 e A15 dello Z80 è come se il chip di memoria fosse presente 8 volte ovviamente sempre con lo stesso contenuto. Il secondo problema è che la memoria RAM all'accensione del sistema contiene dati casuali quindi il microprocessore non ha istruzioni corrette da eseguire e occorre trovare un modo per inviargli il programma. Le soluzioni sono tantissime. Quella forse più intuitiva potrebbe essere usare un decoder come il 74HC138 collegando i pin A13, A14 e A15 e A15 dello Z80 agli ingressi A0 A1 e A2 del decoder il pin memory request dello Z80 all'ingresso CS2 GND all'ingresso CS3 5 volte all'ingresso CS1 e collegando ciascuna delle 8 uscite da Y0 a Y7 del decoder agli ingressi CE cancelletto di 8 diversi chip di memoria. Questi 8 chip di memoria possono avere tutti gli altri pin ovvero il bus dati i 13 bit meno significativi del bus indirizzi e i segnali read e write connessi in parallelo ai corrispondenti pin dello Z80. Con questo circuito quando il pin memory request è a livello logico basso i 3 bit più significativi del bus indirizzi attivano un solo chip di memoria e i restanti 13 bit del bus indirizzi selezionano la cella di memoria all'interno di quel chip. In questo modo inoltre lo Z80 ha effettivamente 65.536 cella di memoria indipendenti e funzionanti. Con questa tecnica si potrebbe sostituire il primo chip di memoria con una ROM in modo da avere 8 kilobyte di software già pronto all'accensione del sistema e 56 kilobyte di memoria RAM o in caso di necessità usare più chip ROM al posto di alcuni chip RAM. La situazione potrebbe essere anche più articolata se i chip di memoria avessero capacità diverse o per sistemi progettati in modo particolare. Ad esempio vediamo come collegare un chip contenente 32 kilobyte come questo e farlo lavorare insieme alla ROM di Arduino. Anche questo chip ha 28 pin 2 di alimentazione 8 per il basso dati 15 per il basso indirizzi un pin per attivare il chip un pin per la lettura e un pin per la scrittura e questi 3 pin di controllo lavorano in modalità attivo basso esattamente come lo Z80. Per far funzionare questa memoria insieme alla ROM di Arduino occorre progettare una mappa della memoria indirizzabile dallo Z80. Arduino si attiva e fornisce i dati quando lo Z80 richiede uno dei primi indirizzi di memoria cioè dall'indirizzo 0 fino a poco meno dell'indirizzo 20 e questo non si può modificare in quanto dopo il reset lo Z80 inizia a caricare le istruzioni dall'indirizzo 0. Volendo sfruttare per intero la capacità di questa memoria e anche per semplificare i collegamenti si potrebbe attivare la RAM quando il pin ha 15 il bit più significativo del basso indirizzi è a livello logico alto e il pin memory request dello Z80 è a livello logico basso occorre costruire quindi una semplice rete logica e con il pin di selezione della RAM che lavora a livello attivo basso sono sufficienti due porte NAND la mappa della memoria quindi prevede che le prime decine di byte degli indirizzi siano gestite da Arduino e gli indirizzi da 32.768 a 65.535 siano gestiti dalla RAM rimangono circa 32.700 indirizzi non gestiti quelli che prevedono il pin a 15 a livello logico basso e non sono gestiti da Arduino ma non è obbligatorio gestirli se il software dello Z80 sa esattamente quali sono gli indirizzi di memoria validi e utilizzabili inseriamo quindi questo chip di memoria in una breadboard insieme a un 74HC00 faremo in modo che alla reset dello Z80 quest'ultimo faccia una copia del programma dell'animazione dei LED da Arduino alla RAM e poi passi ad eseguirlo direttamente dalla RAM escludendo quindi Arduino purtroppo non è stato facile costruire il circuito completo sulla breadboard e ho dovuto risolvere molti intoppi invece il circuito progettato su un circuito stampato ha funzionato praticamente al primo tentativo un primo problema è stato causato dal 74HC00 con due porte inutilizzate ho dovuto collegare tutti gli ingressi liberi a GND altrimenti la tensione sul pin di uscita non si abbassava a sufficienza per attivare il chip della RAM e per poter controllare meglio le connessioni ho poi semplificato il circuito diminuendo i pin del basso indirizzi collegando forzatamente a massa i pin da A8 ad A14 della RAM ho dovuto poi fare altri aggiustamenti ad esempio aggiungere un condensatore da un microfarad all'alimentazione e verificare che non ci fossero falsi contatti tra i collegamenti della breadboard e lo slot del bus RC2014 questa RAM quindi accede solo a 256 indirizzi avendo collegato i pin del basso dati alla Z80 e i pin da A0 ad A7 del basso indirizzi sono stati collegati i pin WE ed OE della RAM ai pin WR ed RD dello Z80 il pin memory request dello Z80 viene invertito tramite una porta NAND e l'uscita di questa porta va in un'altra porta NAND insieme al pin A15 l'uscita di questa seconda porta serve ad attivare la RAM e viene collegata al pin CS per controllare il funzionamento della RAM ho aggiunto un 74HC32 che contiene quattro porte OR collegando una porta ai pin CS EW e l'uscita a un LED rosso e un'altra porta ai pin CS ed OE e l'uscita a un LED verde il LED rosso si accende durante un'operazione di scrittura di questa RAM e il LED verde si accende durante una operazione di lettura passiamo al codice per Arduino e per lo Z80 il programma Z80 dell'animazione dei LED non può più trovarsi all'indirizzo di memoria zero in questa posizione occorre inserire un programma nuovo il programma dell'animazione dei LED deve essere messo in un'altra posizione di memoria per comodità possiamo usare la posizione 256 ovvero il pin A8 A1 e tutti gli altri a zero rinominiamo l'array dell'animazione dei LED in ROM2 e nella funzione interrupt che controlla il pin RD aggiungiamo anche il controllo per la seconda area di memoria all'indirizzo 256 in esodecimale 100 in pratica pin A deve valere 1 e pin C deve essere più piccolo della dimensione del programma dell'animazione scriviamo il nuovo programma per lo Z80 questo programma deve copiare il codice dall'indirizzo esodecimale 0100 la seconda area ROM all'indirizzo esodecimale 8000 la prima cella della RAM finita la copia si esegue un salto all'indirizzo 8000 cominciamo con tre istruzioni carichiamo nel registro HL l'indirizzo dell'inizio del programma dell'animazione nel registro DE l'indirizzo dell'inizio della RAM e nel registro B la dimensione del programma i registri HL e DE lavorano a 16 bit il registro B invece lavora a 8 bit inseriamo i valori degli indirizzi di memoria in esodecimale per comodità il valore nel registro B lo carichiamo in formato decimale definiamo l'inizio di un ciclo dentro questo ciclo carichiamo nel registro A il contenuto della memoria all'indirizzo definito dal registro HL poi scriviamo nell'indirizzo di memoria definito dal registro DE il valore contenuto nel registro A copiato il byte incrementiamo i registri HL e DE per accedere alla cella successiva decrementiamo il registro B e se diverso da 0 torniamo all'istruzione di caricamento alla fine della copia saltiamo all'indirizzo esodecimale 8000 riportiamo il codice macchina nella prima ROM all'interno dello sketch dell'Arduino compiliamo e carichiamo lo sketch apriamo il monitor seriale di Arduino resettiamo lo Z80 e facciamo eseguire qualche istruzione lasciamo riempire la videata con gli eventi rilevati sul bus siamo riusciti a vedere tre lampeggi del led rosso questi lampeggi coincidono con le scritture nella RAM dopo le istruzioni che impostano i dati nei registri possiamo individuare le istruzioni che copiano i dati con la prima istruzione viene letto un byte dalla ROM 2 di Arduino poi viene scritto il dato nella RAM incrementati i registri di puntamento diminuito il contattore e si rifà la copia con il byte successivo alla fine della copia viene eseguita l'istruzione C3 ovvero il salto assoluto e lo Z80 carica le istruzioni dalla RAM eseguendo quindi l'animazione dei led c'è un modo più furbo per realizzare tutto questo le cinque istruzioni che copiano i dati e aggiornano i registri possono essere sostituite da un'unica istruzione chiamata LDIR questa istruzione copia i dati puntati dal registro HL alla posizione puntata dal registro DE incrementa questi registri diminuisce il registro BC e quindi lavora con un contatore a 16 bit e se questo contatore è diverso da 0 decrementa D2 anche il registro program counter cioè esegui un salto all'indietro e riesegui se stessa carichiamo lo sketch e vediamo cosa succede adesso viene caricata una singola istruzione di 2 byte e avviene la lettura di un byte dalla ROM 2 seguite immediatamente dalla scrittura nella RAM proseguiamo il programma con il clock veloce dopo la copia viene eseguita l'animazione dei LED facciamo una cosa azzardata non sarebbe buono da fare a circuito alimentato ma togliamo l'Arduino dal sistema l'animazione continua a funzionare tranquillamente questo perché le istruzioni sono state copiate dalla ROM contenute in Arduino al chip RAM presente nella breadboard ovviamente se il sistema venisse spento o anche solo se lo Z80 venisse resettato il programma non varrebbe più eseguito per questo video ci fermiamo qui nel prossimo video continueremo a parlare di memorie e tramite Arduino verrà programmata una memoria eEPROM grazie per aver visto questo video fino alla fine e grazie per i like fatti ai video precedenti spero che i prossimi video possono piacere ancora di più se avete suggerimenti o volete chiedere qualcosa scrivetelo nei commenti e se vi iscrivete al canale sarò più incentivato a fare meglio i prossimi video a presto ciao a tutti